Luca Cigarini, special guest per quel che riguarda i mercoledì con i giocatori dell'Atalanta qui allo Storner Azzurro. Un mercoledì particolarmente affollato e come sempre, lo ripetiamo tutti i mercoledì, però è così, tanti bambini, tanti atalantini del futuro. Sì, fa super piacere partecipare a questi eventi, soprattutto per i bambini perché sono la parte bella del nostro mestiere, ci fa solo che piacere, a me in particolare avendo un bambino so cosa vuol dire, quindi ci fa più che volentieri. Il piccolo Nicolò come cresce? Appassionato di calcio? Sì, sì, lo sto allenando, a parte gli scherzi, gli sto dando qualche lezione, sperando che non segua le orme del padre, ma meglio. Tanti bambini, tanti atalantini del futuro che poi ti guardano con questi occhi sognanti perché la domenica magari ti vedono in televisione, vedono i calciatori in televisione, poi se li trovano lì di fronte e parlate con loro, giocate anche con loro, fate battute. Certo, ma ci sono passato anch'io perché comunque anch'io quando ero bambino andavo a vedere le partite e mi trovavo davanti ai campioni ed era un'emozione particolare, quindi so cosa provano e so cosa pensano. Quindi ripeto, per noi è solo che è un piacere ed è la parte bella, assolutamente positiva del nostro lavoro e poter rendere felici le persone, in particolar modo i bambini. Luca, veniamo al calcio giocato, al rettangolo verde, domenica c'è una partita importante, lo sono tutte, forse questa contro il Carpi lo è ancora di più, in virtù anche del fatto che magari i tre punti alla classifica dell'Atalanta mancano da un po' di settimane. Sì, sicuramente, un po' troppo tempo, un po' troppe partite che non vinciamo e sappiamo che domenica è una partita non decisiva perché comunque ci sono tantissime altre partite, però probabilmente è finora la più importante che andremo ad affrontare, quindi sappiamo che dobbiamo fare una grande partita, tornare a fare l'Atalanta che ultimamente non ci sta riuscendo molto. Quanto vi manca la vittoria anche a livello di testa, di morale? Quanto pesa non riuscire a vincere? Sicuramente incide, incide perché comunque la cosa bella del nostro sport è vincere, quindi non farlo per undici partite non c'è mai successo, anche noi siamo in una posizione un po' particolare, però sono convinto che con i mezzi che abbiamo, con le qualità umane soprattutto che abbiamo, che ci sono all'interno dello spogliatoio, ne usciremo e faremo un grande finale di stagione.